Sulla questione sicurezza e immigrazione è incredibile quello che sta accadendo. Io voglio usare anche questi minuti che mi date per cercare di fare un'operazione verità su molti temi perché è possibile che non si possa dire la verità sulle cose. Uno dei messaggi più forti che passa da parte della destra sovranista è gli immigrati ci costano, gli immigrati vengono a prendere i nostri soldi, i nostri posti di lavoro. Io sono rimasto esterefatto quando sento queste panzane che sono raccontate come verità. La verità è un'altra. Secondo i dati dell'Inps, gli immigrati in Italia oggi versano 8 miliardi all'anno di contributi sociali, largamente intesi, e ne riprendono in termini di loro servizi, servizi per loro, 3 miliardi. Cioè la presenza degli immigrati in Italia ha un saldonetto a favore dei non immigrati di 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro l'anno è una cifra immensa. Questa cosa va contro ciò che viene raccontato quotidianamente, che è esattamente l'opposto. Però Presidente, la politica non è...